giornalista sin dai tempi del liceo la verità mi consumava la mente tra i delinquenti gli assassini banditi i drogati cercavo la verità per raccontarla sui giornali in televisione e poco prima di morire nei social la verità mi ha baciato spesso nitida e bellissima ma da vivo non credevo che la verità rendesse la società più giusta però rapito dal suo fascino continuava a cercarla nei segreti della cronaca nei depistaggi nelle istituzioni deviate nelle aziende laiche e religiose specie di notte davanti al computer la verità si sedeva abbandonata sulle mie ginocchia mi cingeva il collo e mi fissava io attaccavo la mia bocca alle sue labbra e lei cominciava a raccontarmi ecco guarda la vetta della tua ricerca non è dove te l'aspetti ma molto molto più in alto se mi baci un'altra volta e un'altra e un'altra ancora te la svelo io le ho sempre ubbidito fino a quando l'amore per la verità mi ha ucciso nella dimensione in cui sono adesso intuisco la legge divina e ho smesso di credere che la verità non renda la società più giusta ma che abbia usato la mia morte per essere ancora di più nitida e bellissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti